Il vino più importante per Cade il Bosco è in Franciacorta Cove Prestigio. La Cove Prestigio rappresenta per Cade il Bosco l'ossatura dell'azienda ed è il prodotto in cui l'azienda si sforza di più per dare al consumatore un prodotto costante con uno stile inconfondibile Cade il Bosco e con una prospettiva di migliorarsi anno dopo anno perché uniamo varie annate nella costituzione della Covea. Passando alla degustazione togliamo la bottiglia da questa carta che ha lo scopo di proteggere il vino dai raggi della luce. Il vino ha un profumo e un gusto particolarmente accattivanti non è necessariamente destinato ad un pubblico di persone iper esperte ma a chi vuole gioire e avere un accompagnamento a un pranzo, a un aperitivo in maniera stensierata ma con un bicchiere di grande qualità.